E poi penso anche che per quanto riguarda i cortei non credo che nessuno risponderà alla domanda della questura se si vuole comportare seguendo i principi di Gandhi o seguendo i principi dei black block e quindi forse una severità maggiore rispetto a chi si presenta incappucciato o con un casco integrale scuro io la suggerirei fortemente.